Ho cucinato piccante e bollicine Crema di pomodoro al vapore Senz'olio Senz'olio Ho convinto De Angelis, la banca ci darà il mutuo per intero 150 tondi tondi Sei un grande Sai che forse viene anche Carlo MacBook, quello che fa il giudice a Bolzano Benissimo, così alziamo il livello degli invitati Scemo Qui dentro voglio metterci una foto di te che sorride Sei fantastica quando sorridi Filippa Filippa Vida Vida Il matrimonio è il 16 ottobre Mi raccomando, vieni con i tuoi Il dottorato lo riprendo l'anno prossimo E se esco incinta Che problema c'è? Studio e faccio la mamma 9 anni assieme, chi l'avrebbe detto? Veramente sono 8 Hai sempre ragione tu E vedi di conservarla quella bottiglia Che l'ho pagata 100 euro Che l'ho pagata? Che l'ho pagata? Che l'ho pagata? Grazie a tutti. 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 Ti volevo dire che è uscito il nuovo telefono, il nuovo iPhone e pensavo di comprarlo perché è interessante, ci sono delle opzioni nuove, anche possibilità diverse di collegarsi con internet. Poi le foto hanno una qualità molto migliore, non so quanti pixel e potremmo farci molto più foto insieme, ad esempio in montagna. Ho scoperto la distanza che c'è tra sorridere ed essere felice. Il delitto non è il delitto non è il possesso, ma il possesso che si dichiara amore. Io non lo so se tu esisti. Esistere è troppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.